Musica Quante a tutti ragazzi da Giocherina in questo nuovo piccolo video Ho deciso di dargli anche un nome che sarebbe Help Giochi E appunto gli ho dato un titolo preciso perché magari potrebbe anche risuccedere in futuro che avrò bisogno del vostro aiuto Come ne ho adesso Allora ragazzi di che cosa ho bisogno oggi? Purtroppo sembra tanto che la serie su Yandere almeno dal mio punto di vista abbia raggiunto il suo capolinea Perché non so quali altri contenuti portarvi su Yandere Simulator Però siccome ho già visto negli scorsi episodi che nei commenti alcuni di voi mi hanno consigliato delle cose da fare Ho deciso di creare un video apposta in cui appunto potrete consigliarmi nei commenti tutto quello che posso fare su Yandere Simulator Quindi in cosa consiste questa cosa? È molto semplice Qui sotto nei commenti mi potete scrivere Guarda Giocherina puoi fare questa cosa in Yandere Simulator Oppure Giocherina perché non provi a fare questa cosa vediamo che succede Oppure Giocherina ti sfido fai questa cosa su Yandere Simulator E via dicendo Magari molti di voi sanno molte più cose di me da fare su Yandere Simulator Quindi siccome non me la sento di chiudere questa serie che a me piace e che a voi piace Ho deciso di creare questo Help Joking Poi ovviamente ragazzi nei prossimi episodi su Yandere una volta che mi avrete consigliato delle cose da fare Metterò lo screen del commento e dirò Tizio mi ha detto di fare questa cosa Kaio mi ha consigliato di fare quest'altra Sempronio mi ha sfidato a fare questa cosa È semplicissimo Quindi ragazzi se volete aiutarmi a continuare la serie su Yandere Simulator Vi prego di spararmi qui nei commenti tutte le cose che sapete si possano fare su Yandere Ovviamente ragazzi io vi ringrazio in anticipo di cuore per tutto l'aiuto che mi darete Quindi tutto qua Vi ricordo che questo Help Joking è dedicato esclusivamente a Yandere Simulator Quindi questo video termina qui Ricordo a tutti che ho una pagina di Facebook E trovate in descrizione tutti i link dei miei social Nient'altro da aggiungere Grazie a tutti Un saluto Un bacione E a te a tutti da giocherina Ciao